L'importo è il 75% dell'imponibile previdenziale medio degli ultimi 4 anni, naturalmente c'è un tetto a 1.360 e si inizia a ridurre del 3% a partire dal primo giorno successivo al sesto mese, parte dall'ottavo se ci sa più di 55 anni, si decade o si sospende quando si rialloca da altre parti, si decade quando magari si mature dritta la pensione. Ciao!